Fisico e ricercatore Alfredo Ferraro Noi stessi un tramite, la cura di VB, Cerchio e Seno, foto di Antonello da Giovane. Antonello ha materializzato molti apporti nella lunga attività di questo cenacolo. Quando il fisico e ricercatore Alfredo Ferraro andò in pensione dalla RAI, iniziò a setacciare la campagna maremmana per avere conferma dell'esistenza di Antonello sulla scorta delle notizie che aveva dato la stessa entità. La conferma la ebbe dall'anziana moglie di Antonello, che all'insaputa della particolare ricerca di Ferraro, disse che il marito l'aveva fatta disperare a causa del suo alcolismo, vizio per cui era trapassato. La donna confermò anche ciò che aveva detto Alexander, la guida dell'eseno, e cioè che il marito era molto esperto nella manipolazione della creta, da cui traeva gli oggetti, la cui vendita era il suo unico guadagno. Alexander ha più volte ripetuto che Antonello era preposto ai fenomeni fisici per questa sua abilità nella manipolazione della materia.